bentornati a tutti in questo nuovo video in questo video andremo a festeggiare i 70.000 iscritti nel canale che siete veramente tantissimi e vi devo ringraziare tutti quindi ho deciso di fare questo video ringraziamento e per fare qualcosa di diverso dal solito qua sotto in descrizione potete trovare il link del mio profilo instagram nel quale ho chiesto a voi di farmi delle domande domande al quale poi risponderò in questo video magari nel corso del tempo farò altre storie così di modo che possiate farmi anche altre domande ne ho già collezionate veramente tante stiamo parlando di mi sembra 4 500 domande veramente tantissime in questo video andremo a rispondere a poco più di una ventina di domande e a fine di ogni video nei prossimi video risponderò ad una di queste domande per questo video ho chiesto l'aiuto della mia ragazza che è dietro la telecamera così mi fa lei le domande e io posso rispondervi tranquillamente iniziamo subito con un po di domande succulente e vediamo un attimino cosa mi dice se avessi budget infinito quale sarebbe una build che ti piacerebbe fare allora domanda molto interessante e abbastanza vaga perché il budget infinito oltre a essere difficile da ottenere ti dà la possibilità di fare qualsiasi cosa diciamo con le auto ma secondo me non è tanto importante l'emozione che si ha nel fare una build ma il modo nel quale si riesce a godere di questa build quindi avendo budget infinito piuttosto che fare una mega build di un'auto mia sparo a caso adesso magari fare una huracan twin turbo raggrupperei un gruppo di amici e farei tutte le build per loro quindi magari 10 auto da drift e andare a godersene tutte in pista auto da drift a livello medio professionale perché se sono troppo professionale sono anche difficili da guidare ne buildi 10 vai con 10 tuoi amici ti noleggi una pista te la compri e vai lì tutto il giorno passiamo invece a un'altra domanda che macchina usi come macchina da tutti i giorni macchina da tutti i giorni come ho fatto vedere spesso nel canale uso il doblone da più di due annetti da quando l'ho preso praticamente e l'ho preparato appunto perché di serie a 75 cavalli ed è un po un po lento quindi gli ho raddoppiato la potenza che quello stiamo parlando di 150 cavalli circa ho cambiato principalmente il turbo 1549 ho cambiato la pompa di alta pressione mi ha aiutato matteo lemma nel fare la mappatura e quindi è uscito un giocatore divertente consumi mediocri stiamo parlando di 17 chilometri con un litro usandola un po spinta un po in salita un po carico auto da tutti i giorni dublone passiamo alla prossima domanda macchina dei sogni macchina dei sogni qua sembra un po ripetitiva la domanda però la mia personale auto dei sogni varia tantissimo e secondo me varia anche nel tempo in base a se l'auto dei sogni con il mio budget attuale o se l'auto dei sogni con un budget illimitato perché potete immaginare che magari un auto dei sogni tipo huracan twin turbo per essere utilizzata però ci vuole anche un certo budget con il mio budget di adesso con quello che posso spendere adesso magari nsx magari una m3 touring qualche ferrari carina però anche lì dipende se si possono utilizzare quindi si vogliono i soldi e si può prendere magari un gt3 rs che quello lì qualsiasi si prende sono tutti performanti però se poi non si ha il grano per poter andare in pista e sfruttarli allora te ne fai niente allora tanto vale prendersi una ferrari 348 tb molto bella però la usi di andare in giro passeggio perché il motore fa cagare per esempio dai passiamo ad un'altra domanda adesso che questo questo trend inizia a piacermi ti ritieni soddisfatto di tutti i progetti che al momento hai fatto stai facendo allora soddisfatto dei miei progetti attuali sì come potete vedere o come potete vedere qua dietro alcuni magari un po di più alcuni un po meno tipo il progetto sulla civic adesso manca l'ultimo tassello da aggiungere per ovvero fare la mappa al massimo della pressione turbo che possono sostenere quegli iniettori quindi il limite della civic sono gli iniettori da 880 quello magari soddisfatto all'ottanta per cento perché al massimo della potenza al massimo di iniettori al massimo di tutto uscirà qualcosa come 450 cavalli e io pensavo di avvicinarmi più facilmente ai 500 però quello magari mi è rimasto un po la mare in bocca più avanti là dietro c'è un'altra civic andremo a farne un'altra quindi sì dai tutte sommate sono più che soddisfatta passiamo alla prossima domanda qual è stata l'auto a cui è stato più complicato fare uno scarico completo iniziamo nel dire che ho fatto gli scarichi completi alle auto solo a quelle dei miei amici quello che vedete qua è un garage non è un'officina e lo condivido con amici e smizziamo anche le spese tutto se facciamo qualche lavoretto è interno a noi amici ecco non è una non è un'officina sta roba scarico più difficile che abbiamo fatto di un amico è quello di tablo della sua serie 2 220i con il b 48 e lì è stato difficile primo perché tablo è una persona esigente e quindi meritava anche quell'auto di avere uno scarico fatto bene poi abbiamo dovuto fare un devio per mettere la valvola abbiamo dovuto fare tutta una linea molto precisa perché lo scarico da 76 era molto grosso rispetto agli spazi che c'erano bella precisa quindi lavoro abbastanza difficile abbastanza lungo uscito secondo me veramente bene anche esteticamente un bel lavoro e poi ogni tanto lo sento ancora tablo e appunto mi dice che va ancora tutto bene che suona perfetto passiamo alla prossima domanda ciao oscar sei uno youtuber ma fai anche un altro mestiere sei molto competente nella meccanica prima cosa grazie per i complimenti e al momento sono uno youtuber a quanto pare sì perché faccio video su youtube e l'unica mia entrata il mio reddito è solo dai video che faccio per voi anche questo video farà parte del mio reddito qua sotto lasciate un like mi raccomando iscrivetevi al canale anche per aiutarmi nei progetti e al momento si faccio solo questo ho fatto per nove anni il tornitore dopodiché ho deciso di intraprendere questa carriera di youtube perché avevo già un canale youtube che andava avanti da cinque anni quindi dopo nove anni di lavoro del dipendente tra cui gli ultimi cinque erano anche di youtube ho deciso di fare solo youtube è retribuito in maniera come si dice quando più lavori più guadagni meritocratica ecco è retribuito in modo meritocratico ovvero più faccio più produco più ci sono visual più ci sono risultati più guadagni non faccio niente per un mese non guadagno niente per un mese proprio detto così fuori dai denti nessun problema per fare questo tipo di lavoro se vi interessa ci vuole partita iva e lo stato italiano ha una grossa pecca perché non riconosce il lavoro sui social come se fosse una vera mansione difatti non c'è un vero codice a teco ma le mie entrate sono frutto delle pubblicità nelle inserzioni quindi secondo lo stato io vendo pubblicità online e faccio le fatture a google è un concetto un po astratto speriamo che nel futuro si evolva un po sta roba perché fa veramente pena passiamo alla prossima domanda ogni tanto nei video si intravede se non erro un'integra nera ci sarà un progetto su quella ebbene sì l'integra nera che si vede nei video è quella di pietro e vi faccio comparire uno stralcio di video dove parla pietro della sua integra che è quel proprietario della famosissima integra impolverata lì dietro disintegra quanto tempo è che è scassata questa due anni due anni adesso bello due anni adesso che ferma se hai voglia ogni tanto definirle adesso ho troppa voglia e ti credo ti credo appena sarà pronta poi torneremo a utilizzarla se andate indietro almeno tre quattro anni nel canale ci sono alcuni video dove lo usiamo anche in pista dove dove ci divertiamo alla grande quindi l'abbiamo usato da un bel po passiamo ora alla prossima domanda ciao avere tutte queste auto ha senso se alla fine non si usano tutte non è meglio averne meno da usare ogni tanto la penso come te ovvero di averne meno usarle però quando poi le uso mi ricredo perché tutte le mie auto hanno diciamo mansioni abbastanza specifiche tipo qua vedete le 46 turbo convertita turbo questa è un'auto prettamente da drift quindi tu la prendi la usa sgommare funziona benissimo però ha i suoi difetti come tutte le auto da drift consumano tanto per consumare meno c'è il dublone a poco fanno di carico allora c'è il dublone non hai sedili dietro allora c'ho la 330 station per caricare la gente vogliamo andare forte sul dritto fare le garete con gli altri allora c'è la civic turbo ogni auto ha la sua mansione specifica ed è per quello che cerco di averne più tante possibili e ognuna specifica dai passiamo un'altra domanda adesso ti amo tanto vuoi zoom se non ci fosse stata la bmw donatrice su che motore avresti puntato un tjet penso ti fai riferimento a questa per la multipla è stata scelta la donatrice del 320 diesel non tanto perché fosse un 320 diesel ma primo perché me l'ha regalata seconda perché tutto il pianale completo bmw conosco la piattaforma so tutti i ricambi con la piattaforma bmw possiamo anche mettergli qualsiasi motore possiamo mettergli 3000 benzina 3000 diesel 44 v8 v10 v12 possiamo mettere quello che vogliamo davanti mettere solo il 1400 t jet dentro la multipla con tutta la meccanica multipla sarebbe uscita una slipper replica della civic proprio lenta o meno performante secondo me non avrebbe avuto tanto senso potrà diventare una futura auto da drift volendo possiamo fare quello che vogliamo e mettere qualsiasi motore difatti se continuerete a seguire la serie scoprirete che tra un po arriverà il nuovo motore anche del multiplone tutto più avanti però dai passiamo alla prossima domanda ti sta dando soddisfazione il progetto sul multiplone progetto sul multiplone per ora soddisfazioni abbastanza alte il fatto di riuscire ad adattare tutto così adesso sì mi dà soddisfazioni mentre stavo scambiando la scocca ho avuto un po di timore che non ce la facessi in quel caso mi stavo quasi pentendo ora che siamo riusciti a unirla da tagliare un po di roba da sistemare un po di cagate ma già le prime soddisfazioni arrivano anche tagliare l'auto è stato soddisfacente lo ammetto però sia ci stiamo ci siamo la grande col multiplone vai prossima domanda quanto potrebbe costare indicativamente uno swap k20 su una civic solo di pezzi per quanto riguarda lo swap k20 su una civic solo di pezzi purtroppo negli ultimi quattro anni i prezzi sono andati veramente alle stelle per uno swap come quello che monterò io k20 a2 delle p3 con il cambio 6 marce parliamo di almeno 3500 euro più elettronica poi superi 4000 senza dubbio supporti motore aste al cambio leve così altri quasi 1000 euro siamo già a 5000 euro dipende poi se lo fate su eg o su e k su e k serve anche tutta la roba della eg per facilitare lo swap secondo me solo di pezzi balliamo tra i 6.000 e gli 8.000 euro se vogliamo quello delle p3 se noi invece ci accontendiamo di un k20 che va più piano tipo quelli della stream si trovano a molti meno soldi bisogna adattare un po di roba e si fa uno swap da k20 da 160 cavalli solo di pezzi per me con 3.000 4.000 euro ce la fate quasi la metà vai passiamo alla prossima domanda in futuro potresti pensare di tornare al grip racing come facevi con il crx allora per grip racing penso si intenda track day in futuro sì sicuramente ci torneremo con la civic la in cima quando sarà k20 a 2 aspirata quindi un setup dai 200 ai 215 cavalli una roba del genere probabilmente andremo in pista anche con gian pietro con la m3 quella appunto che farà grip non farà drift e se pietro finirà la integra anche lui torneremo a fare grip altri nostri amici hanno auto che fanno grip traina al 140 i che usa fare grip zippo al 235 i anche lui può fare grip tranquillamente quindi in futuro se riusciamo a sbloccare quel mega blocco della k20 allora riusciremo a portare anche nuove auto in pista a fare grip però quel progetto se non hanno 3 o 4 anni che è lì tutto il materiale per farlo non l'ho ancora iniziato perché voglio farlo veramente bene ma bene 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 che mi ci vuole il mio tempo quando sarò ispirato lo farò un po come la bmw turbo la bmw turbo potevo farla due anni fa non l'ho mai fatta l'ho fatta turbo in un mese e va benissimo però doveva arrivare quel momento di ispirazione passiamo invece alla prossima domanda il dublone che fine ha fatto altre migliorie in progetto? dublone come già detto auto da tutti i giorni quindi è la mia auto daily altre migliorie in progetto? sì avrei voluto fare anche quello quest'estate io ho iniziato già a recuperare un po' di pezzi probabilmente vi spoglierò già andrò a fare uno swap ho già due motori per quel progetto dato che vogliamo spingerlo è solo il dublone vogliamo fare qualcosa di un po' più grosso perché siamo passati da 75 cavalli a 150 ed è già un buon target ora vogliamo arrivare a 250 quindi a salire ancora tanto passiamo alla prossima domanda porterai video del differenziare CAZ e magari qualche altro marchio più economico tipo Torsen? non ricordo come fai a sapere che ho preso un CAZ però magari l'ho detto in qualche video comunque sì ho comprato un CAZ che è un brand non so se è giapponese o americano che costruisce questi differenziali autobloccanti a lamelle e andremo a installarlo sulla BMW rossa tutte queste migliorie però per la terza tappa di campionato non per questo weekend per montare un differenziale a lamelle però abbastanza complesso ci sono da fare tante misurazioni probabilmente andremo a ribildare completamente il differenziale marchi il CAZ a lamelle è quasi il meglio che si può comprare per le 46 i più economici c'è il Torsen della Quife o sempre Torsen possiamo trovare Blackline su ebay stiamo parlando di differenziali da 800 euro mille per il Quife più o meno sempre Torsen più facili da usare in strada, più comodi Torsen e per poterli installare non è troppo difficile però bisogna fare alcune accortezze nel video dedicato all'installazione del CAZ vi spiegherò poi tutti i trucchi, tutti i segreti e tutti i costi passiamo alla prossima domanda adesso come fai a gestire il tempo fra progetti e la ragazza visto che i progetti ti impegnano tanto? questa è una domanda fatta dalla mia ragazza che è qua di fronte e non so bene come rispondere sinceramente come faccio? cerco di organizzarmi al meglio, cerco di ottimizzare tutto al meglio quindi per esempio c'è una serie, pianifico già come andrà la serie, quali saranno le puntate per riuscire a dedicare il minor tempo possibile per fare un video completo a 360 gradi sapendo già quali vari video che devo fare per ritagliare più tempo possibile per la mia vita privata che comprende la mia ragazza e che comprende anche il mio benessere personale tipo andare a farmi i giri con le macchine che non faccio i video e non sono con la ragazza comunque anche quello è un tempo che devo ritagliarmi quindi devo ramificare diciamo un po' tutto non è facile, la mia ragazza ha molta pazienza anche lei anche tu ce ne ho un po' anch'io per lei quindi dai riusciamo a trovarci bene, c'è un buon feeling tra di noi riusciamo a bilanciarci alla grande dai passiamo alla prossima domanda adesso come hai imparato tutto ciò che sai per le preparazioni delle auto? PS sei in grande prima cosa, grazie per i complimenti come ho imparato tutto quello che so sulle auto la chiave principale di tutto, come potete immaginare, sono i soldi quello che ho imparato io l'ho imparato perché mi serviva da fare delle modifiche mi serviva da divertirmi mi serviva da potenziare auto che nascono economiche poco potenti cercando un attimino di informarmi sul web come funzionano le cose cercando di farmi un po' di esperienza sono riuscito a farmi un bagaglio culturale diciamo di queste cose ovviamente l'esperienza iniziale è specifica per un modello quindi io ho iniziato con le Civic perché avevo la CRX inizio con quella, imparo tutto così, motori Honda tutto quando poi ho preso la BMW era tutto nuovo adesso che ho sia Civic che BMW con le Fiat sì, è tutto nuovo di nuovo, però ho già un po' di esperienza prima più affrontate le difficoltà, meglio imparate a risolverle ad andare avanti e quindi vi fate un bagaglio culturale l'unico modo per riuscire ad avere tutto questo è semplicemente provare come molti mi chiedete come hai fatto a imparare a mappare a mappare la Civic e così ho lì la collezione di pistoni rotti, di motori rotti e ci ho provato, ci ho riprovato, riprovato fino a che ho imparato avete proprio in poche parole dai, passiamo alla domanda successiva adesso quanti motori hai rotto con la CRX? non è una domanda che mi ha detto comunque ne ho rotti tre della CRX però ho rotto solo vari componenti ogni volta tutta esperienza dai, fammi una domanda se ne ho prego ciao, hai mai pensato di preparare un T-Jet 1.4 e magari esbopparlo da qualche parte? T-Jet 1.4 è il motore delle grandi punto Abarth e 500 Abarth da quello che so rientra in una specifica annata perché dopo non sono più T-Jet ma sono qualcos'altro comunque sì, preparare quei motori ci hai mai pensato? sì, ci ho pensato più volte ma penso che è una cosa che non farò primo perché secondo me sono diventati troppo costosi quei motori e una preparazione di contorno di quel motore lì si riescono a fare motori più economici, più potenti faccio un esempio veloce voglio fare un'auto X e mettergli il 1.4 T-Jet si può fare, però se devi fare lo swap allora ti guardi intorno e dici aspetta, però è un po' piccolo il motore è un po' esile, alcuni componenti costano tanto piuttosto il swap motori un po' più grandi faccio un esempio se vogliamo spendere cifre simili K20, K24 se invece l'auto è a trazione posteriore ovviamente il T-Jet non ci pensiamo neanche mettiamo dentro motori BMW quindi il 1.4 T-Jet un po' piccolo di cilindrata si riescono a tirare fuori grandi potenze anche da quello però non mi ispirano tanto molto più godibile secondo me un K20 spinto o K24 se parliamo sempre di anteriori altrimenti si può prendere anche un 1.9 1.9 diesel 1.9 diesel gli fai un po' di contorno 2 cagate 250 cavalli T-Jet anche quello con un po' di contorno T-04 2 cagate 200 o qualcosa cavalli 250 non andranno uguali però vanno simili c'è un po' troppo aureo attorno al 1.4 T-Jet per quello che cerco di non prepararlo se nel caso io dovessi fare una 500 Abarth capite già che non sarà 1.4 T-Jet dai passiamo alla domanda successiva qual è stata la tua prima auto? questa domanda si può dividere in due categorie qual è stata la mia prima auto che ho guidato e qual è stata la mia prima auto però che ho comprato mia personale quindi prima auto che ho guidato auto di famiglia Suzuki Grand Vitara 1.6 aspirato LSD di serie e quella l'ho usata quando magari alcuni miei amici avevano ancora i motorini anche io ogni tanto uscivo col motorino però quando pioveva uscivamo col Vitara almeno era comodo non prendevi l'acqua dopo di quella ho iniziato a lavorare un po' e poi mi sono comprato la mia prima auto che è la Honda CRX quella vera la E8 del 90 quella 1.6 VTEC 150 cavalli che da lì ho iniziato poi a modificarla stiamo parlando del 2012 ah piccolo spoiler il motore di quella CRX che la CRX poi l'ho distrutta quel basamento è dentro la Civic Turbo è lo stesso basamento che ho ottenuto per fare poi la Civic Turbo dai andiamo con la domanda successiva a concerto quando è arrivata? 2015 prima adesso 2000 il tuo lavoro principale ora è YouTube o hai altri modi di guadagno? altri modi di guadagno? seguitemi per altri consigli sul trading online no sto scherzando allora l'unico mio fonte di guadagno è appunto YouTube quindi la domanda penso faccio riferimento a quanto si guadagna come già detto prima si guadagna tanto in base a quanto si produce se sei un po' bravo a risparmiare comunque un po' di soldi ti li metti da parte se vogliamo parlare un po' di soldi la cosa più vantaggiosa del mondo di YouTube non è tanto il guadagno tanti soldi posso spendere tanti soldi ma è il guadagno non tanto però posso fare tanta pubblicità cura un'immagine che magari alcune persone mi riconoscono in giro spesso capita che io quando vado a acquistare qualcosa mi facciano dei prezzi di favore questo succede quindi non è tanto il faccio YouTube per poter guadagnare tanto e spendere tanto ma faccio YouTube guadagno medio forse anche un po' poco però ho dall'altra parte a volte degli sconti ovviamente se vado al supermercato mi fanno pagare il prezzo pieno anche se vado fuori io caccendo con l'amorosa mi fanno pagare il prezzo pieno però su alcune cose riguardanti le auto a volte mi fanno dei prezzi di favore dai passiamo alla prossima domanda tutte le macchine possono essere classificate come storiche e quindi avere sconti tutte le auto possono essere storiche praticamente sì c'è una distinzione da fare poco importante tra storiche ed epoca storiche hanno più di 20 anni ed epoca hanno più di 30 anni quindi storiche tra i 20 e i 30 anni di età tutte le auto possono essere storiche sì solo poche auto rientrano nell'elenco di auto storiche AC 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 Ancona Como Italia però tutte le auto con più di 20 anni rientrano nell'elenco di auto storiche ASI Ancona Savona Italia ASI basta che siano in buone condizioni quando le auto sono iscritte ASI va riportato il CRS al libretto ovvero il documento che attesta che è ASI va riportato al libretto 60 euro per riportare al libretto all'AC andate a farlo e dopo se siete in Lombardia in Emilia non pagate il bollo se siete in altre ragioni pagate il bollo ridotto avete l'assicurazione ridotta ci sono alcune agevolazioni che variano in base alle regioni in base ai club dove vi iscrivete di auto storiche dai passiamo alla prossima domanda Qual è stata la tua prima esperienza con motori delle macchine oltre che quelli dei motorini motori delle macchine prima esperienza è stata pessima primissima esperienza sempre per questione di soldi auto di miei genitori la usavo tanto anche io pagavamo un po' diciamo le manutenzioni assieme allora li faccio caspita andiamo dal meccanico figa a fare le robe che costano un sacco ci penso io guardo i video ci penso io a fare manutenzione alla macchina tagliando arrivato al chilometraggio dovevamo togliere l'olio del motore cambiare il filtro dell'olio mettere l'olio nuovo e tagliando era fatto semplice alziamo l'auto sul ponte di un amico tiriamo giù l'olio tappiamo mettiamo l'olio nuovo accendiamo tutto a posto abbiamo cambiato anche il filtro tutto a posto spegniamo fortuna vuole il padre di questo mio amico guarda in terra e ci fa raga ma avete tirato giù l'olio del motore che è bello belento è giallo come è possibile guardiamo sopra avevo tolto l'olio della trasmissione quindi nel motore c'era dentro il doppio dell'olio a posto che quasi 4 litri ce n'erano dentro quasi 8 litri e la trasmissione era secca per fortuna non avevamo mosso l'auto e allora questa è stata la mia prima esperienza ovviamente dopo abbiamo dovuto chiedere a un meccanico che ci ripompasse l'olio del cambio dentro e di nuovo buttare via tutto l'olio del motore e mettere l'olio nuovo e il filtro l'olio nuovo questo mi ha costato un pochettino a livello di costi però mi ha dato un grosso bagaglio culturale ovvero prima di cambiare l'olio del motore assicuriamoci che quello che stiamo togliendo sia olio del motore abbiamo iniziato tutti quindi anche io ho fatto le mie cazzate stiamo parlando del lontano 2009 passiamo alla prossima domanda hai intenzione di fare un'installazione di kit acqua e metanolo? acqua e metanolo al momento non ho intenzione di usarlo è una strategia che non mi fa impazzire perché dipende sempre da un serbatoio esterno quindi voi avete acqua e metanolo miscelati di sotto 50-50 perché il metanolo è troppo aggressivo in un serbatoio nell'auto andate finché c'è livello che a me non piace come tecnologia ma io metterei un sensore di pressione quindi finché ci sarebbe pressione nell'impianto che spruzza acqua e metanolo usate la mappa spinta quando finisce quella pressione lì torni alla mappa normale a me non piace così preferisco mettere l'etanolo che non è il metanolo l'etanolo direttamente nel serbatoio fare la miscela fare la mappa dedicata con quella miscela acqua e metanolo viene utilizzato in maniera molto efficiente secondo me sui motori diesel perché non puoi mettere l'etanolo nel diesel quindi il carburante è sempre quello è sempre fisso non puoi mettere il 108 anni non puoi mettere il metanolo niente si utilizza l'iniezione acqua e metanolo direttamente nell'aspirazione per abbassare un sacco delle temperature preferisco appunto mettere l'etanolo nel serbatoio che con la mappa dedicata può abbassare anche lui le temperature dai passiamo alla domanda successiva adesso sei veramente un matto da cosa è nato il progetto del multiplone il progetto del multiplone è nato assieme a Traina perché guardavamo assieme i vari video di Boosted Boys e Boosted Boys ha fatto la famosissima magari molti di voi lo conoscete già un youtuber americano e Kyle ha preso questa Honda Odyssey che è un monovolume l'ha tagliato ha preso una Tesla Blade incidentata 60 carte di auto l'ha tagliata e l'ha messa sotto e l'ha unite e ha fatto la Pledesi che sarebbe 1000 cavalli elettrici di una Honda Odyssey se la vedete da fuori ovviamente il budget era quello che era allora assieme a Traina gli faccio caspita cos'è che posso usare che sia compatibile con BMW dato che mi hanno regalato una BMW allora abbiamo guardato un po' su Wikipedia i vari passi delle auto e quello che si avvicinava di più con però una forma di auto abbastanza stupida era appunto la Multiplan è nato tutto un po' così perché ho visto che si poteva fare ci sono molti video su YouTube dove gente fa swap con pianali BMW sotto le varie auto quindi è abbastanza trovare un'auto con il passo simile e basta dopo si taglia si sovrappone si salda e si va passiamo alla domanda successiva adesso è un'affermazione ok fai una Panda 141 Turbo ok Panda 141 che io ovviamente non conosco bene le Fiat è la Panda la classica Panda quella che si conoscono tutti degli anni 90 penso spoilerando velocemente di farne una Turbo conosco gente che l'ha già fatta alcune persone le conoscerete anche voi perché guardate YouTube anche voi quindi alcuni l'hanno già fatta conosco gente che l'ha fatta ed è uscito un risultato non adatto alle sue aspettative di questa persona che conosco quindi questa persona ha deciso di venderla e io dopo due vendite l'ho comprata io e la porterò sul canale facendo vedere appunto di completare quel progetto magari affinando un po' di cacatine perché secondo me uscirà un bel progetto la Panda 141 ha un po' il difetto che di base è molto molto esile come auto è uno scheletrino tutta fine di serie escono con 50 cavalli forse la più potente neanche 60 cavalli si si può salire di potenza si può doppiare anche quello 120 140 150 cavalli ma iniziano a essere già un po' tanti per tutta la struttura semiassi braccetti un po' tutto per quello che non ho mai fatto progetti su quello perché cercavo di fare progetti sempre un po' più robusti che resisterebbero a stress elevati tipo il BMW turbo tipo il pianale BMW qua rispetto magari alla meccanica multipla che sono tutte cacatine che si sbriciolano dai passiamo alla domanda dopo perché posso mettere il braccio nel faro della tua BMW? quella non è una domanda che mi hai fatto te non la fate nessuno perché serve per fare entrare l'aria nel turbo vai dica dica a tutte ciao Oscar ti volevo chiedere come è stato abbandonare il lavoro e dedicarsi a YouTube sei il numero uno magari da fuori o anche io potevo immaginare sarebbe stata divertente dai grande vado via dal lavoratore dipendente con gli orari fissi la paga fissa faccio quello che voglio con gli orari che voglio e guadagno tanto quanto riesco in realtà per il primo diciamo annetto è stato molto molto difficile e molto lontano dalle mie aspettative perché ogni volta che mi alzavo il mattino avevo questa ansia questa angoscia di non sapere cosa dovevo fare nessuno mi diceva quello che dovevo fare dovevo immaginarmi tutto io quello che sarebbe stato da fare questo timore ogni giorno mi assaliva sul fatto di non riuscire a guadagnare abbastanza non riuscire a mantenere tutto quello che avevo psicologicamente è stato molto molto difficile soprattutto penso anche molte altre persone che fanno il passo da lavoratore dipendente a lavoratore indipendente è difficilissimo non avere più una linea guida una strada da seguire ecco essendo tutto libero sei libero e puoi salire o cadere deve essere abbastanza forte io ho fatto fatica quindi magari non sono proprio così forte però secondo me con un po' di buona volontà e tanta dedizione poi i risultati arrivano adesso sta andando bene dopo almeno un annetto o un annetto e mezzo i risultati adesso un pochettino alla volta iniziano a arrivare domande finite? sei felice? sì dai al momento sono felice magari questa domanda se me l'avessero fatta anni fa avrei detto boh non lo so adesso sì sicuramente dopo due anni partita IVA adesso sono felice sono riuscito a trovare un buon equilibrio in tutte le cose vita personale ragazza lavoro macchine amici un po' tutto già una buona linea per questo video raga penso di avervi sfragassato le palle abbastanza continuo a parlare quindi lasciate un like qua sotto se vi è piaciuto il video commentate cosa ne pensate di tutto quello che avete sentito delle risposte alle varie domande e se avete anche voi altre domande da farmi potete o scriverle qua sotto nei commenti e io sarò felice di rispondervi o altrimenti potete seguirmi su Instagram c'è il link in descrizione e su Instagram puoi farmi altre domande o ogni tanto magari una volta al mese o una volta ogni due mese farò comparire nelle storie lo slot dove potete inserire voi le vostre domande così poi faremo un altro video come questo dove risponderò a tutte le vostre domande mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi congratulazioni ti avevo il culo distrutto anche il mio e lui volevi di come mi parlo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti